In questo video vi spiegherò come scaricare un programma chiamato Nero Start Smart Che serve per fare montaggi video, audio, registrare, infatti è un programma completo di parecchie funzioni Completo di manuali Questa è la versione premium Questo programma è anche noto molto per masterizzare cd, dvd, audiodati In pratica è un buonissimo programma A pagamento Nero Start Smart 7 Come vedete puoi fare moltissime cose Backup Una grande varietà di cose Allora Prima di tutto io vi metterò il link in descrizione per scaricare il file torrent Se non sapete cos'è uTorrent Basta scaricarlo Che vi metterò pure il link per scaricarlo Ma basterà semplicemente scaricarlo da internet Scrivendo uTorrent Che può scaricare o dal sito Comunque vi consiglio su Softonic Che è un buonissimo sito Molto buono Ok Cliccate su download gratis E diciamo scaricatelo Se volete che vi spiega come si usa Per quelli che non lo sanno lo spiegano Allora Una volta Una volta aperto C'è una volta Una volta che l'avete scaricato Io vi metterò il link in descrizione Grand of Loan Di nero 7 Allora Dovete cliccare su Scaricare via torrent Ok Tappare il torrent Cliccare sul torrent E inizierà a scaricare Vi chiede Adesso metto si Vi chiederà Una cosa Tu Dovresti mettere Sempre a accettare Mettere si Una volta scaricato Fa molto presto In 10 minuti Io già l'ho scaricato Lo aprirete Una volta aperto Nella cartella Dovete andare a cliccare Su Nero 7 10 1 Vabbè Il setup Di nero Una volta scaricato Installato completamente Andate a cliccare Sul Nero Cajen Esegui Aspettate Vabbè Ste musichette Dementi Lasciatele perdere Bisogna cliccare su Ehm Questo qua Già sta a posto Quindi non tocca a niente Cliccare su Generate Aspettate un po' Ok una volta che l'ha generato Selezionare tutto il codice E cliccare su copy Una volta che l'ha copiato Lo incolli Dove Dove Te lo chiede E quindi Continuerà l'installazione Ed il gioco E' fatto E l'avrete Senza pagare Nulla Vabbè Questo è tutto Spero che vi sia piaciuto il video Iscrivetevi se volete Al mio canale Vi saluto Spero che vi sia piaciuto il video